Migliorare la qualità della vita per aumentare i flussi turistici e intercettare le famiglie che si stanno trasferendo da una sempre più cara Milano è la ricetta per il rilancio di Vigevano secondo il Polo Laico che ha pubblicato un documento con alcune proposte. Le riflessioni partono dalla premessa che ormai da anni Vigevano non riesce ad accrescere il numero di abitanti. Non solo, secondo gli ultimi dati di Union Camere, l'intera provincia di Pavia continua a essere indietro sullo sviluppo delle imprese a vocazione turistica. Ecco quindi alcune delle proposte formulate per provare a invertire la tendenza. Punto focale è la riqualificazione di aree ancora in cerca di un destino come il Colombarone della Sforzesca o l'ex Macello. Secondo il Polo Laico il recupero di quello che era il mattatoio comunale dovrebbe abbinarsi a un raddoppio del Parco Parri che si vorrebbe venire esteso fino a occupare buona parte dell'area del mercato. Via Leauto dal centro storico e più alberi lungo le strade principali sono altri punti del documento che propone inoltre la realizzazione di aree di ritrovo all'aperto per ragazzi e anziani e una migliore illuminazione dei monumenti. Questi quindi suggerimenti del Polo Laico per provare a intercettare i milanesi, turisti o possibili residenti in fuga dalla metropoli.